BISCOTTINO! 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 Eccolo qua il biscottino! Sì! Biscottino! Ciao a tutti amici dello svapo! Perché biscottino? Perché ho voluto provare un'altra vaniglia la vaniglia di Mrs. Lord & Company è una custard cream più che vaniglia e appunto una crema questo liquido è inglese c'è con varie gradazioni di nicotina io sono riuscito a trovarlo a zero nicotina come potete vedere per un milligrammi poi bacio 21 e 15 ml questa è la quantità minima secondo me che che bisognerebbe vendere che bisognerebbe vendere un liquido 15 ml 10 ml cominciano a stare un po' stretti a tante persone 10 ml vanno via in fretta infatti sto alternando il mio dom 10 ml panettone a questi 15 ml di crema inglese e perché biscottino perché qua dentro si sente tanto il biscotto il biscotto cookie è molto meno cioccolatoso per intenderci rispetto al cookie dell'american star chi lo conosce è un biscotto molto vanigliato è una vaniglia si sente bene questa vaniglia ma anche il biscotto il biscotto cookie quello con i pezzettini di cioccolato o se vediamo si avvicina anche al gelato cookie che aveva due biscottoni la crema e tutti intorno i quadratini di cioccolato è favoloso è favoloso finalmente finalmente ragazzi che piacere svappare una qualità di liquidi del genere a zero nicotina mi dispiace dirlo ma zero nicotina è il massimo l'esploit dei sapori perché la nicotina per quanto vogliate dire it or non it ma un po' copre i sapori e assaporare una vaniglia cremosa e così biscottosa a zero nicotina è una goduria il liquido è 50 50 50 vg 50 pg a zero nicotina ovviamente è acquista questo colore paglierino che diventa sempre più intenso con l'aumentare della nicotina il profumo apriamo la boccetta si presenta così senza nessun dosatore un tappo anti bambino che bisogna proprio pigiare il profumo si sente questa questa vaniglia molto molto profumata è un liquido raffinato molto raffinato e al palato ripeto si sente questa vaniglia differente dalla vaniglia della mexos come vaniglia quella della mexos americana io preferisco eh però in questa vaniglia ci si sente tanto altre creme e soprattutto ricorda il il biscotto con i pezzettini di cioccolato il biscotto cookie non c'è altro da dire se non che è veramente buono liquido del regno unito che ci insegna quanto buona la vaniglia con le creme e i biscottini biscottino 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 buono 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 lo promuovo e lo consiglio ciao a tutti stay swap